Da qui si vede tutto, si vede tutta la riviera, tutta la riviera, si vede il grattacielo davanti a me. Vediamola darsena. Bentornati amici di Gerrimini in questo nuovo episodio. Oggi siamo al Porto di Rimini e vi porto a fare un giro sulla ruota. Siete pronti? Andiamo! E' stato super veloce, siamo già partiti praticamente, guardate, ci mettiamo di qua. Ok, siamo in alto, iniziamo a salire. Questo è il momento migliore della giornata a cui venire, il tramonto, perché rispecchia l'acqua sul fondo del porto e quindi l'acqua è molto molto bella, cristallina, azzurra, commento alla fine. Fermo, non mi difendere. C'è chi soffre di vertigini, c'è chi no. Bello, siamo sulla ruota e si è fermata alla cima e siamo fermi ormai da quasi più di 2-3 minuti, quindi danno anche il tempo di vedersi bene il panorama. Qua c'è un bellissimo tramonto dietro di me, lo potete vedere qua, bello bello. Allora, qua abbiamo la darsena di Rimini, molto bella da fare il giro la sera, anche qui abbiamo un video e ve lo lascerò qua quando uscirà. Poi abbiamo il porto, laggiù, che è molto bello, la scogliera dove si va a camminare, ci si siede la sera, là c'è una bella brezza d'estate, si stende lì oppure ci si siede, si fa due chiacchiere con un gelato, perfetto. E poi qua, la riviera alla vostra destra, dietro di me, si dovrebbero vedere tutti gli ombrelloni e c'è moltissimo vento qua su, si però si sta bene, si rinfresca. Ah, senti che aria. Era da un po' che non ci venivo, ero venuto il primo anno che avevano messo la ruota a Rimini e questa però è un'altra compagnia e hanno le cabine un po' diverse, l'altra volta però eravamo seduti con qualcun altro all'interno, invece questa volta ci hanno messo da soli, quindi è perfetto per le coppie. Ok, siamo tornati al piano zero, piano zero, primo giro, si riparte. Questo è il momento più bello, state pronti? Stiamo salendo eh, stiamo salendo. Ok pizza, qui ho fatto un video eh, se non l'avete visto vi lascio il link qua, ok pizza, per l'aperitivo dopo. È finita? No, è l'ultimo giro, teoricamente, se no ti è andato male. Finita? Finita. Mi sa che è finita. Finita? Sono bello. Finita, riusciamo. Intervista a Giulia. Ok, abbiamo finito la nostra diretta, come ti è sembrato? Qualche commento a caldo? Allora, io che soffro di vertigini, il primo giro è stato un po' drammatico, perché al primo giro la ruota si ferma. E poi io mi muovevo. Poi Luca si muoveva di qua e di là per fare il video, quindi ti senti un po' rastornata, imbambolata. Però? Però dopo, beh, ti abitui tranquillamente, quindi per chi soffre di vertigini come me, ai giri dopo è andato tranquillo. Intervista a Luca. Tu invece, Luca, che impressioni hai avuto? Ma, allora, io ho fatto il video, quindi un po' il tempo è passato molto veloce. Mi sembra di essere appena salito, quindi è durato veramente poco. Però, probabilmente, per voi che non farete video o cose del genere, durerà molto di più. Mi raccomando, il primo giro è il più importante, perché nel primo giro la ruota si ferma in cima, mentre in tutti gli altri tre giri la ruota non si fermerà più, ok? Quindi, ricordatevi, il momento più bello è il primo giro, state pronti, poi magari le foto le fate dopo. Al primo giro godetevela, senza video, senza foto, niente. Fate i bacini, fate tutto quello che volete, ma state lì, il primo giro è importante. Gli altri poi vi mettete a fare le foto, i video, eccetera, eccetera. Mi raccomando, guardate a 360 gradi, perché potete vedere la Darsena, il porto, la riviera con gli ombrelloni, il grattacielo, il faro, la visione della città di Rimini. E arriverete anche a vedere Gabicce Monte, che è laggiù in fondo, provincia di Pesaro e Urbino, nelle giornate, chiaramente, dove non c'è troppa umidità. Vai Giulia, dimmi presti. Allora, ecco il tariffario. Per una persona il biglietto viene 9 euro, il ridotto per i bimbi viene 6 euro, speciale famiglia abbiamo due persone e un bambino a 22 euro, due persone e due bambini a 26 euro. E infine, per i residenti, il biglietto costa 5 euro. Giudizio finale, ve la consiglio, almeno una volta nella vita, ve la consiglio, la ruota di Rimini. Se siete qua in vacanza, perfetto, una serata potete venire qua. E mi raccomando, se poi non sapete cosa fare dopo, prendete uno dei miei video nelle playlist. Cosa mangiare a Rimini, che sono cucina tipica di pesce, dove andare a fare colazione, quali pizza andare a prendere e quali piadinerie e cassonerie sono le migliori. Ho fatto già tre tour, vi lascerò tutto in descrizione oppure andrete nel mio canale e troverete le playlist. Iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Ciao!